Trasmettere la fede, promuovere la riconciliazione e la pace tra le etnie, occuparsi dei bisogni dei più deboli. Sono gli impegni della Chiesa nello Sri Lanka, di cui ha parlato Papa Francesco ai Vescovi, ricevuti al termine della visita ad Limina. Dopo i decenni di guerra civile, ha detto il Papa, la Chiesa contribuisca alla riconciliazione della pace, facendo lavorare insieme le etnie nelle diverse attività pastorali e caritative. Il Papa ha sottolineato la ricchezza del pluralismo religioso presente nel Paese ed anche di fronte a violenze e atti di intimidazione e di fronte ad un uso strumentale della religione, la Chiesa deve seguire con fermezza la via della pace e del dialogo. Il Papa ha chiesto poi speciale attenzione per le famiglie e tra le questioni urgenti ha citato la fedeltà nella vita a due, i matrimoni misti, le migrazioni in cerca di un futuro migliore che divide le famiglie, la guerra civile che ha colpito tantissimi nuclei familiari. Grazie a tutti.